Piccante! Se mi sono pentito? Eh! Allora... Benvenuti su recensionesmart.it dal vostro, Romeo Federico. Anche oggi siamo qui per una recensione semplice... No, in realtà oggi non c'è una recensione. Questo perché lei è stata la prima ad essere portata sul canale nell'ambito recensioni. Ma quest'oggi invece andremo a fare un'intervista al nostro caro amato proprietario per sapere ogni pregio e difetto. Quindi Manu, è il tuo momento. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui davanti alla mia bellissima leoncina e oggi vi elencherò alcuni pregi e difetti di questa bellissima auto. Esatto, quindi andremo a rispondere a tutte quelle che magari sono le domande che vi siete sempre posti e soprattutto se ne avete qualcuna in più scrivetela nei commenti perché potremo riutilizzarla per i prossimi video ma a Manu comunque vi aiuterà a rispondere direttamente nei commenti. Partiamo Manu dalle domande un po' più ostiche, faremo una e una, una bella e una brutta. Va bene. Quindi partiamo dai lati che potrebbero essere negativi ma prima ti chiedo un po' di presentarci lei, il suo allestimento, i chilometri, insomma dici un po' di tutto. Allora, abbiamo una Leone FR 2021 1.5 TSI quindi turbo benzina con un'aggiunta di una batteria da 48 volt attualmente a 22.000 chilometri scarsi. Quindi la cosa che ti è piaciuta di meno di questa Seat Leone che quando la guidi dici è insopportabile questa cosa? Gli interni, qualcosa che riguarda gli interni e a me dà fastidio il fatto che l'hanno fatta... cioè ci sono due punti di vista è troppo minimale ed è una cosa bella ma c'è poca presenza di tasti fisici è tutto concentrato nel display e quando guidi viene molto scomodo fare alcune cose Credo che, come abbiamo detto nella recensione che troverete in alto a destra, nella scheda tu ti hai rilamentato probabilmente della mancanza del tasto per lo sport se non sbaglio? Sì, infatti anche quello è un difetto che se stai guidando vuoi un attimo divertirti devi far tutto tramite display non c'è la presenza di un tasto fisico come in molte auto Va bene quindi abbiamo trovato un po' uno di quelli che potrebbero essere i difetti Poi magari ci ritorniamo più avanti per vedere se ce ne sono altri magari anche meno importanti però comunque può essere una cosa che può dar fastidio che magari arriva quel ragazzo che ti sorpassa e tu dici, oh, mo' che vado sul display, metto sport Sì, sì, non ci stai, non vuoi subire è già andato Ti passa la voglia Bene Invece abbiamo detto la cosa negativa quella che ti piace di più che ti ha portato magari anche a sceglierla? Che, vabbè, oltre all'aspetto estetico che è un'auto, secondo me almeno con questa motorizzazione molto, molto versatile Io, usandola principalmente casa lavoro mi sposto in centri urbani, paesi e per quanto riguarda consumi cioè, secondo me, un turbo benzina con consumi da 900 km con un pieno non se ne trovano Specialmente in questo periodo dove i prezzi Esatto, esatto e poi se vuoi schiacciare o comunque divertirti non ti annoi cioè è una macchina che comunque ti diverte 150 cavalli anteriore ci sta Allora, io mi ricordo che con la Peugeot 308 che era il 130 cavalli una volta un po' non dico che ci siamo ingarellati perché assolutamente non si fa Sì, siamo andati in giro un po' allegri e 130 cavalli spingono però questi 150 si fanno sentire parecchio quindi comunque è una macchina che se vogliamo divertirci entrare un po' più veloce in curva ce lo permette Esatto, molto versatile un bel telaio un bel assetto perché poi sospensioni dinamiche con questo allestimento qui perché appunto è diciamo un full optional tranne sedili riscaldati e gancio traino che vabbè sono cose Possiamo dire più o meno quanto l'hai pagata? Più o meno Allora 2021 eh 27 e mezzo però appunto parliamo del 2021 prima di tutti questi problemi che sono usciti nel mondo adesso ho un preventivo di un amico di 3-4 mesi fa che stessa macchina con stessi optional veniva a 8000 euro in più e mi è andata bene ancora Cavoli invece una domanda che magari molti si staranno chiedendo in giro comunque c'è la Golf quindi Volkswagen che comunque sappiamo che Seat e Volkswagen collabora ma perché hai scelto Seat? Allora mi è sempre piaciuta fin dal primo modello la prima Seat che hanno fatto la seconda così così la terza invece è molto bella e quindi la quarta insomma la Seat la Leon in particolare è una macchina che mi è sempre piaciuta sono andato a cercare non nego che ho fatto anche preventivi per Audi A3 e Golf 8 però il marchio si fa pagare alla fine hai soprattutto per quanto riguarda Golf motore cambio e telaio che è la stessa macchina cambia solamente a livello di carrozzeria estetica e solo per avere il marchio Volkswagen quei 4-5 mila euro in più li vogliono e quindi è per parer mio è molto più bella del Golf 8 io dovrei essere imparziale ma gli do ragione preferisco molto molto di più questa Seat Leone che esteticamente secondo me ha quella marcia in più rispetto magari a una Golf 8 perché cioè si vede che l'anteriore è bello cattivo e anche comunque dietro anche un po' come l'ha modificata lui con questa scritta pompaticcio che tra l'altro ha il suo nome di Instagram quindi se vi va seguitelo seguitemi sui social l'ha resa un po' più sportiva e quindi secondo me sull'estetica ti do molto ragione e poi non hai freddo sto da dio e invece quindi adesso abbiamo fatto un po' di domande e in realtà prima anticipavi una questione consumi che in realtà quando abbiamo fatto la recensione nei commenti si avevo letto anche i commenti molte persone incredule però ragazzi sul lungo periodo dopo possiamo anche fare un'inquadratura non ho problemi sul lungo periodo quindi ogni 10.000 km mi sembra che si resetta siamo sui 19 litro io facendo casa lavoro faccio 16 km a tratta e nel periodo in un periodo caldo adesso iniziamo a avere qualche difficoltà però in un periodo caldo con una media di 20 gradi di temperatura ambiente io faccio i 23-24 km al litro soprattutto perché c'è questa funzione qua del mild hybrid che comunque aiuta molto nel far veleggiare l'auto sì 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 praticamente lascia il gas il motore si spegne cambio automatico l'abbiamo detto giusto? no però nel manuale non c'è quindi appunto cambio automatico DSG 7 rapporti 7 rapporti esatto lascia il gas la macchina veleggia e tu macini i chilometri quindi se fai sempre la stessa strada conosci i tuoi semafori i tuoi svincoli tutto quanto calcoli bene quando lasciare lei va da solo invece prima parlavamo un po' di una guida nell'ambito sportivo quindi magari parliamo un po' di prestazioni come va tiene bene la strada se ti ricordi magari anche lo 0-100 allora 0-100 in 8 secondi 8 e mezzo prestazioni secondo me è una gran bella macchina va tenuta allegra soprattutto in montagna perché il turbo entra un po' non tardino non ha un turbo lag esagerato però non ce l'hai fin dai bassi secondo me sei sui 1.800-2.000 giri ok quindi girare leggermente altina e secondo me è una bella macchina tiene davvero bene soprattutto in sport perché ammortizzatori si induriscono perché guidata in comfort sembra di stare su una barca chiaro comfort la uso solo in autostrada perché almeno a tutti sce bene però giornaliero uso sempre cioè individuale perché puoi anche impostare te come guidare sì una modalità in cui decidi un po' tu come mettere le sì sì infatti ad esempio motoreco perché appunto consumi cerchiamo di stare attento visto il periodo esatto ammortizzatori sterzo ce l'ho tutto in sport così è bello duro senti bene è bella precisa la macchina esteticamente o anche magari meccanicamente quali modifiche hai fatto o comunque magari hai in programma perché non ti hanno soddisfatto perché comunque Manuel si è dimenticato di dirci una cosa che non gli è piaciuta molto di questa Seat Leon la trovi molto alta è vero? ah sì vabbè ragazzi quali sono questi personali ci sono alcuni che dicono che è una macchina che comunque è bassa secondo me la macchina sopra ai 5 cm da terra è alta quindi ricordati che viviamo in Italia già qua si vede come sono messe le strade fa niente no comunque allora se la usi come macchina tranquilla è perfetta però se vuoi farci qualche chicca secondo me assetto scarico e basta 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 assetto scarico secondo me diventa perfetto va bene allora niente adesso magari siamo arrivati un po' a quella domanda piccante se mi sono pentito eh allora no perché come ho detto prima una macchina con questi consumi i giorni d'oggi non la trovi cioè poi fa il motore dipende tanto dalla motorizzazione però per quanto riguarda i consumi è una macchina che non cambierei mai non nego che l'hai messa in vendita ah quindi la macchina è disponibile però di come l'hai messa in vendita quando hai premuto invio per venderla com'eri sperando che nessuno la prendesse l'hai messa in vendita solo per altri obiettivi eh però appunto come ho detto adesso a Federico non l'hai messa in vendita sperando che nessuno la prenda quindi ragazzi diciamo che magari lasceremo anche in descrizione il link acquisto però non compratela perché lui non vuole quindi lui l'hai messa lì esatto esatto vuole vedere l'ho messa lì ho detto vediamo se qualcuno la prende però speriamo di no d'accordo allora direi che possiamo chiudere alla grande ringraziamo ancora Manuel qui sotto link dell'acquisto dell'auto e il suo profilo Instagram mi raccomando seguitelo invito a seguire anche noi di Recensione Smart Instagram TikTok YouTube iscrivetevi lasciate un bel like un commento e magari fate qualche altra domanda così Manuel poi ci darà una mano a rispondere nei commenti oppure potremo riutilizzarla per la prossima intervista detto ciò io sono il vostro Romeo Federico Ferrari Manuel e vi auguriamo un paticcio e vi auguriamo una buona giornata e al prossimo video ciao ciao vai vai è andato bene figa easy grazie a tutti